Ciao a tutti, mi chiamo Artem e benvenuti al mio canale. Di solito qui rispondo delle domande in inglese, ma oggi pensavo di fare un video in italiano perché la domanda è in italiano e sull'italiano. Quindi pensavo di registrare questo video per vedere il mio progresso o rigresso in italiano e sì, parlare un po' per aggiungere un po' di varietà. La domanda è... Ciao, sono interessato di sapere come va il tuo italiano. Stai continuando a studiarlo? Qual è il tuo livello? Da quanto tempo studi l'italiano? Complimenti, vai alla grande con il tuo canale. Grazie. Quindi, da quanto tempo studio l'italiano? Studio l'italiano da ottobre 2013, ma non posso dire che durante tutti questi anni ho studiato l'italiano i primi dieci mesi, sì, ho studiato l'italiano, era l'unica lingua che imparavo, ma poi ho cominciato... cioè, ho attenuto... avevo questo livello che... più o meno che ho adesso, potevo comunicare, anche se con degli errori, ma... cioè, la lingua è stata imparata, cioè... non so come dirlo in italiano, ma... niente, poi dopo questi dieci mesi ho utilizzato l'italiano. Quello che ho fatto, ho ascoltato dei podcast, ho visto... guardavo dei video, magari film, documentari, poi soprattutto parlavo con la gente. e adesso quello che faccio è... ascolto un podcast che si chiama Podcast Italiano. È un podcast geniale da Davide, Davide Gemello, che è un amico mio con cui anche posso praticare a volte il mio italiano. E sono le uniche due cose... le uniche due cose che faccio adesso per praticare il mio italiano e mantenerlo. ma... anche a parte di questo posso guardare e ascoltare i contenuti di Italiano Automatico. E... anche... posso dire che grazie, grazie a Italiano Automatico, che adesso almeno capisco e poi parlo italiano, ma anche... ho parlato l'italiano tanto su Skype, perciò per me... anche se non l'ho fatto... non l'ho fatto... non lo faccio spesso, non... dimentico la lingua. E... niente... nel futuro vorrei anche fare... eh... delle... dei video... eh... in italiano, ma... credo che... si deve un po' a... migliorare la lingua, perché... sì, capisco molto bene. Per quanto riguarda la lettura, mhm... non ho letto molto in italiano, eh... proprio... quasi... cioè, non ho letto nessun libro, ma ho letto dei... conti, dei articoli su internet, e questo è... certo, il vocabolario è molto limitato, eh... per quanto riguarda il parlare, come potete dire, cioè, io parlo, ma anche... faccio degli errori, il mio accento non è... eh... così... eh... diciamo, e io vorrei migliorare questo, vorrei... vorrei parlare meglio, eh... con... più... con... fluenza, no, no, più... velocemente, no? E... fare... errori, eh... non troppo spesso. eh... sì, è tutto quello che riguarda il mio italiano, eh... non voglio dimenticare questa lingua, perché... eh... è stata la prima lingua che ho imparato da solo, e sono stato in Italia due volte, quindi... eh... mi piace... mi è piaciuto tantissimo l'esperienza qui, mh... lì. Eh... la prima volta, quando sono stato in Italia, non potevo dire niente, poi la seconda, che è stata un anno fa, è stata un'esperienza molto più ricca e interessante, potevo parlare con qualsiasi persona e mi sentivo proprio come a casa. e perciò voglio ritornare anche in Italia, voglio... eh... connettare con questa storia, cultura, e... con la gente, e... per... per quello il mio italiano sempre... sempre avrà... avrò sempre tempo per... per... lavorare sul mio italiano, per praticarlo e per godere di questa lingua. E... sì, è tutto. Grazie per la domanda e... niente, farò molti più video in italiano in futuro, ma adesso ci concentriamo sull'inglese. Grazie.